Buona venerdì 26 marzo. Continua il dialogo tra Gesù, gli iscrivi, i dottori della legge, i potenti del tempo, coloro i quali presumono di poter interpretare correttamente la legge. Lo mettono alla prova, gli fanno delle domande, ma Gesù parla con sapienza e con spirito innovatore. L'amore apre una dimensione dell'autenticità della vita, parla dell'amore come fondativo dell'esistenza umana. L'amore per Dio con tutto se stessi, con tutta la propria forza, la propria mente, la propria anima, il proprio spirito, che significa amare nella trascendenza, immanente nell'attualità, nel qui ed ora, ma sempre con lo sguardo rivolto ad una appartenenza. E contemporaneamente ci invita a cogliere nell'altro, in colui che è prossimo, e rispetto al quale noi stessi ci facciamo prossimo. vivere nell'altro, proprio questa dimensione dell'amore, questa contemporaneità, della trascendenza, dove trae origine, questa misteriosa dimensione dell'amore che rende gioiosa la nostra vita anche nei momenti più difficili, e che rende autentico anche il senso della giustizia, perché l'amore per il prossimo deve essere concreto, aperto, disponibile alla condivisione, fondato sulla vita comunitaria, dove le diversità e le contraddizioni sono il terreno nel quale si semina la fecondità dell'amore. Questi sono i due grandi fondamenti della legge dell'amore che noi siamo chiamati a rispettare, e rispetto ai quali possiamo vivere intensamente anche il formalismo della legge, reinterpretandola con misericordia e con attenzione nei confronti della fragilità che è in ciascuno di noi e che ci richiama inevitabilmente alla dimensione etica, alla responsabilità nei confronti del prossimo. Buona giornata a tutti. 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 Buona giornata a tutti.